Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Mila Nelò, ben ritrovati. Ho avuto la fortuna in questi giorni di andare alla presentazione del nuovo libro che ha scritto Arrigo Sacchi insieme a un mio amico. È stata una bella serata, Arrigo Sacchi è sempre un personaggio, magari non è più, ovviamente non è più giovanissimo, non è più quello che conoscevamo di 30 anni fa, però è un grandissimo personaggio, una persona colta, con una memoria di ferro ed è stato un piacere, un piacere vedere lui, vedere i giocatori, i giocatori che lo hanno omaggiato, perché c'era lì c'era Donadoni, c'era Massaro, c'era Boban, che a vederlo mi sembra ancora informissima, secondo me 20 minuti a partita io glieli farei fare a Boban, io lo metterei, io prenderei Boban gli ultimi 20 minuti, lo metterei davanti alla difesa con licenza di giocare, di guardare molto in avanti. Comunque, a parte queste battute, che cosa ha detto Sacchi? Parte tutti i ricordi così, ma quello che il suo mantra, quello che ha ripetuto è stato la parola società, la parola società. Io devo ringraziare Gulli, Van Basten, Rijka, tutto quello che volete, tutti, ma i tifosi, ma quello che io veramente devo ringraziare è stato avere alle spalle una società forte, una società con persone competenti. E io è proprio questa parola, questa parola competenza, su cui voglio basare questo video. Secondo me, al Milan oggi è la fiera della incompetenza. Capisco di essere molto duro in questa affermazione, capisco probabilmente di essere esagerato, ma cercherò di argomentare per spiegare perché per me qui c'è la fiera dell'incompetenza, specialmente se mi riferisco a squadre nostre competitor in cui invece la competenza societaria c'è e come. Allora, vediamo. Il Milan negli ultimi anni aveva un organico, aveva un organico con un amministratore delegato molto competente, molto competente, Gazzidis, ha fatto molto bene, ha avuto anche un serio problema di salute appunto personale, ma ha fatto molto bene ed era molto competente perché è colui che ha gestito per tanti anni l'Arsenal ed è riuscito anche dal punto di vista finanziario a costruire il nuovo stadio dell'Arsenal su cui si basa poi gran parte degli introiti di questa squadra londinese. Quindi c'era Gazzidis che era molto competente. Poi c'era Maldini che inizialmente non era molto competente, ma che piano piano aveva acquisito una competenza. Era persona di personalità appunto, un grande carisma, basta il nome Maldini, tanto è vero che Maldini sembra che lo voglia il Manchester United, ma una persona di calcio, che ne conosceva di calcio, che stava imparando, aveva imparato a fare questo ruolo di responsabile direttore dell'area tecnica. Poi accanto a Maldini c'era una persona competente come Massara, una persona che ha fatto anni e anni di gavetta intorno accanto ad un guru dei direttori sportivi Sabatini e a un certo punto è venuto al Milan a portare la propria competenza come direttore sportivo. Poi c'era Boban, una persona molto competente, un grande milanista, un grande calciatore, un grande esperto di calcio che ha acquisito anche a livello di conoscenze politiche lavorando, lavorando presso la UEFA ed era venuto a portare il proprio apporto al Milan. Poi c'era Moncadà, c'era questo Moncadà, un talent scout, uno che conosce uno di quelli che immaginiamo che viva 25 ore al giorno di fronte ai video a vedere calcio in tutto il mondo, uno che conosce tutti i giocatori, uno che usa gli algoritmi, una persona esperta di calcio ma che appunto individua talenti, talent scout, individuare talenti e forniva questi nomi al duo Maldini-Massara. Poi c'era Scaroni, il presidente, che non ha mai fatto granché nel Milan se non lavorare per cercare di costruire lo stadio di proprietà e infine c'era Pioli con il suo staff che faceva l'allenatore. Piacere o non piacere era una società di proprietà Elliot, e non lo dico a caso, di proprietà Elliot, che aveva comunque un organico societario di primo ordine, moderno, con personale nuove anche nel calcio ma di grande prospettiva. Il Milan, con questo organico, clamorosamente migliora il proprio bilancio, clamorosamente lo migliora e arriva addirittura a vincere uno scudetto. Poi ci dicono che Elliot vende a Redbird a Cardinale, una persona che di calcio non sa niente, niente, e cambia tutto, e cambia tutto. Prima di tutto, cambia l'amministratore delegato. Da Gazzidis, grande manager ma esperto di calcio, arriva Furlani. Anche egli un grande manager, uno che ha un curriculum scolastico pazzesco, uno che ha fatto una carriera in Elliot brillantissima, vi assicuro che in un fondo americano fare quella carriera devi essere uno veramente tosto, parla tante lingue e tutto, ma grande tifoso del Milan ma con un piccolo particolare. Non sa nulla di calcio, delle società di calcio. Può imparare, certo può imparare, però è un amministratore delegato che non sa di calcio. Questo al posto di Gazzidis. Dal punto di vista economico anche la gestione Furlani continua sulla riga intrapresa da Gazzidis. Poi viene licenziato, nel modo che tutti sappiamo, in dieci minuti, senza alcuna spiegazione, viene licenziato Maldini. E insieme a Maldini non si capisce quale colpa gli sia stata addebitata, ma comunque viene licenziato anche Massara. E che succede? Quindi come vengono sostituiti Massara e Maldini? Aspetta, prima era stato licenziato Boban. Come è stato licenziato Boban? Come è stato sostituito Boban? Non fu sostituito, ma si disse Va bene, si può fare a meno di Boban perché Maldini sta acquisendo esperienza. Ci poteva stare questo ragionamento e i risultati si sono visti, ma non sono stati così negativi. Però appunto manca Boban, manca Maldini, manca Massara. Almeno ci si aspettava due innesti. Una persona di calcio, molto esperta, al posto di Maldini, per esempio Ibrahimovic, e un direttore sportivo, al posto di Massara. Il giunto è della situazione, io per esempio avrei cercato di prendere Sartori, ex giovane centravanti del Milan, che ha fatto molto bene dovunque sia stato. Comunque, un esperto di calcio. Invece no. Vogliono fare le cose diverse, tutti sempre diverse dagli altri, perché gli altri sono tutti fessi. Bene. Cosa fanno? Non vengono sostituiti Maldini e Massara, viene promosso questo Moncadà, ha un ruolo, praticamente fa un escalation nell'organigramma di due o tre posizioni, fa tutto lui, gli si affianca una persona che non conosco, questo Dottavio, che non risulta avere un grande curriculum, ma è giusto un nome, per quello che sappiamo è un nome, e soprattutto viene promosso Pioli da allenatore a coach, cioè alla gestione di tutto, alla gestione di tutto. Abbiamo visto quello che sta succedendo, abbiamo visto che il problema degli infortuni che esisteva continua sempre peggio, abbiamo visto che la campagna acquisti si è stata fatta lasciando dei vuoti enormi, quindi fatta più pensando al futuro, ma non pensando al presente, a cercare di vincere questo scudetto, non è stato fatto, e il nostro lo Furlani ha fatto anche la figuraccia, lui, e ha fatto fare la figuraccia al Minam per la fare Taremi in ultimi due giorni di campionato, quando dovevamo prendere Taremi e praticamente è stato sbeffeggiato dal porto, dai procuratori di Taremi, non sappiamo da chi, fatto sta che in Minam ha detto voglio prendere stop, possiamo prendere Taremi e torna a casa con le orecchie basse, beh, può succedere per amore di Dio, ma se le mettiamo tutte insieme questo è l'ultima, la ciliegina, adesso arriverà Ibra, anche lui, tutti quelli che abbiamo nominato fino a ora sono tutti fuori ruolo, perché hanno cambiato ruolo, sono fuori dal loro ruolo, Ibra addirittura non è neanche fuori ruolo, neanche avrà un ruolo, che ruolo avrà? Sarà il consulente part time, perché dura tante altre cose da fare Ibra, part time di cardinale, di Jerry cardinale, che dovrà quindi controllare quello che viene fatto a Milanello dal Furlani, dal Moncadà e da Pioli, è un ruolo pericoloso, mi puzza di una diarchia tra Elliot, che è rappresentata da Furlani, perché è un ex Elliot, e la nuova proprietà o quasi proprietà di cardinale, ricordiamo che la proprietà nominativa è di cardinale, la proprietà economica è rimasta di Elliot, ecco, questa guerra qua, in mezzo ci mettiamo Ibra, che sicuramente tutto ha di come doti, ma l'ultima doti che ha Ibra è la diplomazia, servirà, molti hanno la speranza che serva, che vada lì, scuota, faccia, speriamo, speriamo, io ho paura che invece sarà peggio, perché si creerà una frattura delle frizioni che già stanno emergendo, e vediamo, poi magari invece Ibra avrà un potere taumaturgico che con la sola imposizione delle mani e degli occhi risolve tutto, e saremo tutti felici e contenti nel nuovo mulino bianco di Milanello. Ciao a tutti!